esiste un mondo di avventure proprio così se osservate bene voi chiamate la libertà dei viaggi avventurosi vedrete aprirsi un mondo davanti ai vostri occhi un mondo in cui a farvi da guida saranno i vostri sogni più grandi entrate in questo mondo e navigate sotto la bandiera della grinta e dell'entusiasmo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti